Io sono Craig e questi due gentiluomini che stanno parlando... Il pesce gommoso vuole sfidare l'orso gommoso! Sei pronto? Io sono Zeke. Ho sentito che voi siete dei professionisti nel cercare le cose. Perciò vorrei assumervi. Proprio ora? Mi dispiace, Zeke, se siamo impegnati a cercare... Uno di questi? Un pezzo del cubo di Kenneth. Dove l'hai trovato? Oh, era nel ruscello. A volte le cose sono nascoste in bella vista. Lo volete? Ti ascoltiamo. Allora, cosa devi cercare di preciso? Non è una cosa, è... Chi? Ho bisogno che cerchiate il mio gemello identico, Hyde. Il tuo gemello? Dove l'hai visto l'ultima volta? Quando abbiamo iniziato il nascondino due stati fa... Due stati fa! Iniziò come una normale partita. Ma ogni volta che giocavamo, Hyde si nascondeva sempre meglio e ci è voluto sempre più tempo per trovarlo. Finché un giorno lui è rimasto nascosto. E non l'hai più trovato? Io sono un bambino, mentre lui è un avversario eccellente. Lo riesco a sentire mentre mi prende in giro. Giusto. Ragazzi, riunione di gruppo. Accidenti! Un bambino che si nasconde per tutto questo tempo e che si perde i compleanni. Uh, è dedizione al gioco. Se Zeke non trova il suo stesso fratello, come siamo sicuri di trovarlo noi? È una missione difficile, ma per trovare il cuore della foresta ci serve quel cubo. Coraggio, giochiamo a nascondino. Qui è dove abbiamo iniziato a giocare. L'albero della conta. Gli ho dato le spalle, ho contato fino a cento e poi non l'ho più visto. Hmm. In quel lasso di tempo può essersi allontanato fino a qui prima di doversi nascondere. Il che significa che deve essere da qualche parte in quest'area. Siete voi i professionisti, perciò non voglio mettermi in mezzo. Io e il cubo vi aspetteremo qui. Hmm. Ciliegia. Ok, presto dobbiamo trovare Hyde. Oh, magma. Sono troppo in profondità. Tiratemi su. Hmm. Ah, niente. Dobbiamo pensare fuori dagli schemi. L'avevo già pensato io. Nessuno riesce a resistere al fascino... ...del grande premio! Ogni settimana conferiamo un premio al miglior giocatore di nascondino. Questa settimana il premio è un viaggio completamente pagato alle Bahamas! E il nostro vincitore fortunato è... Ehi! Davanti esci e vieni a prendere il tuo grande premio! Un viaggio alle Bahamas? Grazie a tutti.